Nel mondo dell'enigmistica, è Leone Pantaleoni, buonasera, benvenuto, anzi ben ritornato negli studi di Dopocema. Ben ritrovati. Si è accasciato al suolo mentre parlava di una delle sue grandi passioni, l'enigmistica, davanti a un'ottantina di persone. Leone Pantaleoni, 72 anni, si trovava ieri a Fermignano, nella Sala Monteverdi, dove stava tenendo una conferenza per l'Unilit. Una delle tantissime che Leone teneva instancabilmente ovunque lo chiamassero, per testimoniare il suo amore viscelare per le parole. Non c'è stato nulla da fare, una morte cerebrale istantanea non ha lasciato scampo all'enigmista, seppur soccorso immediatamente. Pantaleoni era un amico di Fano TV, si era seduto ben due volte sui divani rossi di Dopocena, la prima volta per parlare di enigmistica, appunto. Il termine etimologicamente viene dal greco, questo non sorprende, e viene da un sostantivo, a enigma, che è legato a un verbo, a enitto, ma che in sostanza vuol dire parlare in maniera nascosta. Leone da Cagli, questo era il suo pseudonimo con cui collaborava da 30 anni con la rivista che vanta il più alto numero di imitazioni, la settimana enigmistica, pubblicando Rebus, per i quali ha vinto numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Uno dei suoi giochi più famosi, definito un capolavoro dagli esperti, finito anche sulle enciclopedie Zanichelli, fece sfidare due pezzi da 90, Benigni e Umberto Eco, episodio raccontato simpaticamente tra l'altro durante la puntata di Dopocena. Di Leone ci rimane il sorriso, i suoi modi garbati e modesti, nonostante la totale padronanza della lingua italiana e dei suoi infiniti modi di giocarci. Divenne da subito un amico, col quale era difficile non andare d'accordo, e che ritornò a Fano TV per parlare della sua seconda grande passione, la Sacra Sindone, di cui fu un approfondito studioso e conoscitore, che lui amava definire il più affascinante degli enigmi. Per quanti vorranno tributargli l'ultimo saluto, i funerali di Leone si terranno nella chiesa di Cristo Re a Pesaro sabato mattina alle 11.30. E chissà che da lassù, con date e numeri, non ci faccia un bel indovinello.